Ciao a tutti, chi vince in amore? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo di notere l'appuntamento di domani, Torino, venerdì 7 febbraio 2020, ore 20.45 per il mio seminario dal titolo Seduzione Emozionale, Seduzione Emozionale come conquistare chi desideri e poi l'appuntamento di Milano, Full Immersion, domenica 1 marzo delle 9.30 alle 19, seduzione emozionale, cioè scusate, autostima di seduzione in amore nel lavoro, riferimento 333 15 11 703. Allora, e veniamo al tema, ricordandoti ancora che puoi abbonarti al canale Massimo Tramasco perché se ti abbonerai al canale Massimo Tramasco potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me e potrai, diciamo, nei due livelli di abbonamento e potrai abbonarti anche al canale Felicità Benessere con una quota simbolica diventando praticamente moderatore del canale o moderatrice ovviamente e ricevendo attenzione durante le live. Bene, veniamo al tema, veniamo al tema, chi vince in amore? Allora, intanto perché ho usato questo verbo, no? Vincere, vincere si presuppone che ci sia una competizione, ma in effetti in amore spesso esistono delle competizioni perché fin tanto che le cose funzionano per il verso giusto, fin tanto che tutto va bene.